Grazie a tutti. Grazie a tutti. La sostenibilità può essere un valore, deve nascere dal basso, ma deve nascere anche dalla governance delle imprese e quindi anche dalla finanza e vi porterò degli esempi. Come abbiamo già visto prima, siamo davanti a grandi sfide per l'umanità, ormai sono i nostri figli, i nostri giovani che ce lo raccontano. I numeri penso che fanno parte, perché siete tutti anche professionisti e penso lavorati in questi settori. Stiamo combattendo contro il tema del clima, contro la temperatura del pianeta. Ieri ero ad Ancona al convegno sul nostro mar Mediterraneo, che sapete è il mare più caldo al mondo, ed è previsto un innalzamento di un metro delle nostre acque. Quindi ci sarà un problema per le coste, per le nostre spiagge. C'è questo problema di adattamento climatico. C'è il tema dell'acqua potabile, che magari noi non lo viviamo, ma sapete che abbiamo anche tematiche saline anche sulle nostre coste e comunque un tema che dobbiamo guardare come cittadini del mondo, perché l'acqua non è infinita. Abbiamo sentito prima parlare dell'agricoltura e quindi del consumo che noi facciamo nei nostri ettari, di cosa distruggiamo ogni giorno. E l'altro giorno che sentivo, invece, ero per caso vicino al Boa Padova e c'era questo sciopero studentesco sul tema del clima, che è stata una cosa incredibile. E sentivo questo ragazzo all'autoparlante che parlava di consumo di suolo, cioè non dobbiamo consumare suolo. Quindi ecco, temi che viviamo adesso in maniera molto forte e sentiamo in maniera molto vivace. Il tema è sicurezza alimentare che abbiamo sentito prima e quindi l'inquinamento diffuso. Qualche volta iniziamo a vedere anche noi degli stranieri con la mascherina. Insomma, siamo di fronte a sfide importanti, importantissime e abbiamo una responsabilità per quell'80% del pianeta che ha anche scarsità di cibo e quindi la battaglia sull'alimentazione. Io ho fotografato prima perché molte volte i bambini e noi adulti buttiamo via il cibo e non puliamo il piatto e invece c'è una parte del mondo che non ne ha proprio. Cosa possono fare le imprese? Già che siamo in Confindustria, penso molto. E quello che abbiamo capito stamattina è che non lavoriamo più solo sul tema proprio ambientale, ma stiamo lavorando su un tema ormai nel convegno internazionale. si parla di impegno multicapitale. Cioè abbiamo un tema di ambientale, quindi CO2, rifiuti, scarsità d'acqua, ma un tema anche di welfare, di capitale umano, di nostro territorio e ho ripreso i temi che la comunità europea ha tirato fuori come valore non finanziario per le imprese sostenibili. Ecco qual è la trasformazione multicapitale che è partita nella compliance. Cioè voi stamattina avete sentito un intervento di passione, bisogna fare, abbiamo poco tempo, dobbiamo agire, dobbiamo agire con competenza tecnica, ma adesso anche il mondo legislativo, in questo caso europeo, e anche il mondo finanziario, se leggete il rapporto di Visco, di Banca Italia, per la prima volta dice alle imprese la sostenibilità da reputation all'impresa, da valore all'impresa. E questi sono i cinque pillars che nella normativa europea, ma che trovate anche negli Stati Uniti, cioè a livello internazionale, quindi vedete che i temi di inclusione multicapitale che ci richiama la finanza oggi, questi sono obbligatori per questa direttiva europea, per il bilancio 2017, per le aziende quotate in borsa, per le aziende finanziarie, per le nostre banche, è obbligatorio dare i valori di andamenti ambientali del proprio business, i valori sociali del proprio business, il capitale umano del proprio business, il rispetto dei diritti umani, e ne parliamo anche in Italia, perché molte aziende nostre hanno una filiera che va fuori l'Italia di produzione, e la lotta alla corruzione attiva e passiva. Su questi pillars si sta valutando la sostenibilità delle imprese oggi, per cui il nuovo trend degli investimenti, perché fatalità, ho rivisto le slide stanotte, per cui l'ho aggiunta proprio, perché anche ieri un to' fuori, va bene il movimento dal basso, ma anche la finanza e il mondo bancario deve appoggiare gli investimenti sostenibili. L'imprenditore, avete sentito la revenue, al ritorno, le BTDA, però se non viene valorizzato quello che non ha valore economico diretto, ma l'indiretto, cioè il valore delle persone, il valore del territorio, il valore della CO2, il valore di tutte le cose che abbiamo sentito stamattina, il movimento è più lento, succederà, ma magari è più lento. Se invece do questo valore, e sono i famosi, questi qui, SG, che ormai penso sentiate, environmental social governance, gli indicatori, diciamo, chiamiamoli non finanziari delle nostre imprese, questi potranno creare il movimento. Vedete, la governance, che vuol dire? Chi, l'imprenditore, e noi siamo abituati alle piccole e medie imprese, magari nel territorio familiare, ma ci sono anche le multinazionali, purtroppo molte aziende italiane anche acquisite, per cui la governance di impresa deve conoscere la sostenibilità. Io per mestiere presiedo dei comitati di sostenibilità di aziende quotate. Il lavoro più difficile è far capire che non è solo l'utile netto, il valore dell'impresa, c'è anche altro. Per fare questo bisogna fare formazione anche ai manager, ai consiglieri dei CDA, ai commercialisti che gestiscono la 231. Bisogna capire che esiste un valore diverso dall'utile netto effettivo. E gli SG ci insegnano questo. Questo è, gli investimenti nel portafoglio delle istituzioni sono finalmente dei numeri in positivo, nel senso che i trend degli investimenti sostenibili stanno crescendo. Ci aspettavamo di più, ci aspettavamo che chi investe nel petrolio siano investimenti in calo, ci aspettavamo qualcosa di diverso, ma adesso c'è un movimento anche dal basso molto forte delle nuove generazioni, che sicuramente spingerà. Quindi il mondo si sta muovendo e bisogna, e mi è piaciuto, mi sono commossa, perché bisogna credere ai sogni, alle passioni, a chi ti dice qualche volta, alla pazzia. Però la pazzia e la creatività dei nuovi modelli di business dietro, come dicono i grandi creativi, hanno ore e ore di lavoro. Un grande creativo, Garofalo, che è un italiano che non vi dico cos'ha fatto nel packaging e nell'automotive, dice 10.000 ore per la curiosità, per la creatività, sono il minimo 10.000 ore. Quando fai colloqui chiede qual è la tua passione, quali sono le tue 10.000 ore su quella cosa a cui credi. Per cui ci vuole una forte, per cambiare, per i nuovi modelli di business, ci vuole una velocità con una creatività importante, ma che richiede competenza. E oggi siamo nella settimana dell'ASVIS, ci sono, anche io sto correndo da un convegno all'altro, parliamo dei 17 goals, che non sono dei quadratini colorati, non sono dei quadratini colorati, sono molto di più. Dietro, questi 17 goals che alla fine si integrano con gli SG, perché gli SG è uno strumento di KPI, di gestione di questi goals, sono goals sull'economia, la società e l'ambiente e la biosfera. Oggi le imprese che lavorano con l'estero e con l'Italia, quando parlano della propria sostenibilità, nelle proprie presentazioni usano questi quadratini. È diventato un linguaggio internazionale, soprattutto con gli Stati Uniti, adesso vi faccio vedere delle statistiche. Sono i 17 goals da qui al 2030. Dietro a questi quadratini ci sono ovviamente dei valori di misura, perché quando io dico che mi impegno alla tutela del mare, che mi impegno al climate change, che mi impegno sul cibo, che mi impegno al crescita di fatturato con l'attenzione però alla sostenibilità, che mi impegno al tecnologie innovative, qui dietro ci sono degli indicatori. Quindi quando parliamo di sostenibilità parliamo di numeri, di modelli matematici, che mi permettono di analizzare quali sono i migliori scenari della mia produzione per rispettare il cambio di clima. Come ridurre la CO2? Ci sono dei numeri. E questi numeri vengono calcolati, ecco, con questi GRI standard che ormai vengono usati, dalle statistiche che ho visto negli ultimi periodi, il 100% dei bilanci di sostenibilità delle imprese hanno alla base i GRI, per fortuna, perché c'è anche un tema di standardizzare la misura della mia sostenibilità. E voi sapete che se non viene standardizzata, le aziende di rating, tra di voi e degli imprenditori, sanno benissimo che il rating bancario è fondamentale, qualche volta per gli investimenti e tutto. Il rating sostenibile, fatto dalle compagnie di rating internazionali, si stanno standardizzando sui GRI, perché è fondamentale avere una stessa unità di misura. Quindi i Global Goals misurati sui GRI, vediamo quelli che da quando, insomma, è pochi anni che vengono utilizzati per misurare la sostenibilità e visualizzarla. Queste sono le ultime statistiche americane, quindi una ricerca recente, la dimensione del quadratino sta ad indicare qual è il quadratino che ha maggior attenzione per le imprese negli Stati Uniti. È simile all'Italia, perché vi faccio vedere la statistica italiana, ovviamente il più attenzione, mi raccomando, crescita economica in un lavoro decente. Poi c'è la formazione, poi c'è l'innovazione tecnologica, poi c'è responsabilità nel consumo ma anche ricircolo dei materiali, gender, quindi qui anche la diversity e la presenza negli ambienti lavorativi di tutte le tipologie donne, gli anziani, tutte le tipologie. E poi la salute, guardate l'attenzione alla salute, quanto è importante. Ecco, bisogna lavorare ancora tanto sul tema, vedete, ambientale, l'acqua, l'ambiente, eccetera, hanno ancora delle attenzioni minori dalle imprese, dal punto di vista forse anche da valorizzazione economica. Questa è l'ultima ricerca italiana, ve la cito, ve la potete scaricare, fatta con Consob, che è ovviamente chi controlla i mercati finanziari, per cui penso sia interessante, perché dà valore alla sostenibilità. In Italia chi ha presentato bilanci di sostenibilità secondo comunque la DNF, la dichiarazione non finanziaria, sono 200 imprese. Sapete che le quotate italiane non sono tantissime, non so qua in Friuli, ma saranno forse 50 nel nord-est. Però ecco, di queste aziende italiane 200 hanno presentato bilanci di sostenibilità o DNF, a seconda delle scelte aziendali. Però guardate come iniziano a crescere alcune aziende, a mettere all'interno della governance di impresa il comitato della sostenibilità. Cioè non c'è solo 231, comitato controllo rischi, remunerazione, ma attenzione, la governance deve avere anche la sostenibilità. E questa è, ve l'ho messa perché già che il mio intervento era bilanci di sostenibilità, diciamo che su queste 200 aziende la maggior parte fa dei report più ridotti sugli indicatori, alcuni invece fanno un bilancio che è più corposo su tutti i temi della sostenibilità, che sono 44 aziende sulle 200 che hanno presentato in Italia i report di sostenibilità. obbligati per legge questo, perché sono molte di più le aziende che fanno sostenibilità, le PMI, queste sono le grandi aziende italiane. Guardate anche l'Italia, il 78% ha scelto come goals la crescita economica, l'innovazione tecnologica, l'efficienza energetica al 72% e la CO2, cambiamenti climatici. Questi sono i quattro goals che tutta, la maggior parte di queste aziende ha scelto per misurare il proprio business. E qui, vi lascerò comunque le slide, trovate gli impegni di queste aziende italiane sulla sostenibilità. Quindi c'è proprio un'elencazione che, vedete, va sui temi proprio ambientali, la CO2, l'acqua e altro, sociale, quindi l'impegno sul territorio, che servizi fanno al territorio queste imprese, i clienti, l'accessibilità dei beni e servizi, cioè delle indicazioni su come si muove il mercato nazionale. Molta attenzione anche al capitale umano dell'azienda, attenzione alle pratiche di business etico, quindi ci sono molte aziende anche che hanno un proprio bilancio etico, e ai diritti umani. E poi, visto che ormai molto mercato industriale, parlo del tessile, o alcune volte anche il metallo meccanico, sull'estero, l'attenzione e il coinvolgimento delle catene di fornitura. Ecco, questi sono i temi sui quali le imprese qui presenti vi invito a raffrontarvi, perché queste imprese che lo devono fare per compliance, questo report, hanno le priorità. Quindi quando si fa una valutazione di impresa, una mappatura di impegno, è bello valutarlo con delle statistiche già esistenti, che ci aiutano ad aprire meglio gli occhi. Ho aggiunto, per chiudere, anche io sto arrivando alla conclusione, che i bilanci di sostenibilità, ma penso che l'abbiate capito, dietro hanno delle misurazioni e dei valori. Noi siamo una società con una quarantina di interni, più di una ventina di esterni, di ingegneri, matematici, eccetera, e le colorazioni dei 17 goals, se non hanno dietro una misurazione, non valgono. Non valgono. E mettere un'immagine, per far carina la brochure, dietro ci devono essere le anali di ciclo di vita. Questo è l'esempio di una multinazionale che abbiamo analizzato, ma per dirvi che, vi ho riportato anche le sedie, già che siamo in ambito friulano, che anche all'università sono nei corsi anche di ingegneria, ormai anche l'LCA o la modellazione matematica è parte dei percorsi di studio, e ringrazio perché quando arrivano gli ingegneri che già li sanno usare è un valore aggiunto. È importante, per orientare le scelte anche sui materiali, analizzare col ciclo di vita tutta la filiera di arrivo, capire gli impatti e capire che materiali alternativi si possono usare per avere delle performance, anche nuove, di quei prodotti. E questi sono gli strumenti di analisi, anche qui ci sono dei programmi ministeriali, adesso è cambiata un po' la governance nel Ministero dell'Ambiente Italiano a livello di direzioni, ma anche, e spero usciranno anche dei finanziamenti proprio per l'analisi dei processi produttivi dal punto di vista ambientale. Per cui il tempo non è tantissimo per cambiare e migliorare i nostri impatti, però penso che se ci impegniamo tutti la nostra Italia potrà essere colorata veramente con un impegno alla riduzione dell'impatto. Grazie. 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 Grazie.